Adesso stiamo andando a trovare Cilsia, una nostra storica abbonata. Seguitevi. Ciao campione. Tutto bene? Anche tu? Tutto a posto? Per me? Che bello, che carini che siete. Viva la mia, viva il mio tato con Rai. Tutti aspettiamo un palazzo. Siamo così. Veniamo tutti quanti al palazzetto. Bello, bello, bello. Guarda, guarda, bella. Voilà. Wow. Questo lo teniamo come trofeo, giusto? Per gli anni di tifoseria dell'Apida Maschetta. Premio meritato. Premio meritato, grandi, grandi.